Il microfono è un microfono, ma non è un microfono, ho detto lui che è un peluccio. Ti ho detto di andare in sala giochi, perché c'è forse un martello che mi fa un bel martellante. E dà delle grandi martellate. Bene. Luca che è arrivato, va bene, sei qua. Sì, sì. Se a Rugger ti è arrivata e ci è arrivata e ci è arrivata. E' arrivata quando l'ho mandato? Ieri mattina? Ieri sì, ce l'ho scritto domani alle 14, quindi è una roba di ieri. Mi chiamano. Ma che parte lui mi fa mangiare tutti? Guarda, io non so più di niente. Quindi la prima cosa è il lunedì che c'è sempre... Derà lei è l'effetto che è chiusa. Giuseppe il mare. Sì. Suorzi. O, sono. Giusto. 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 Grazie. Grazie. Ah, quindi questa è l'ospedale. Pensavo a fare dei box. Anche in quel momento. Qui cerchiamo di capire, ma comunque non vado a fare di vedere niente. Ma il video quello... Peccato che con quei riflessi l'anno si riesce a riprendere un camera. E' un motorario che rifletta su tutte le vetrate. E' accattivato. Praticamente ho chiesto a volleyball questa roba qua. Ah, vabbè. Si, allora l'ha fatta per Verona. E li finivamo molti. Tant'è che nella chat tra di noi, negli addetti stampa, sia io che, come ti dicevo, Mazzaro... Ci sono le 80.000 visualizzazioni con volleyball, ma ci arrivi lo stesso. A Menala, Sosterovoli, siamo un buon ruolo, oggettivamente. Si, ma l'ha fatta per Verona. C'è un buon ruolo. C'è un buon ruolo.